La cosa che mi è piaciuta di più è stata appunto la concretezza, come diceva anche lui, e quindi gli spunti per una diretta applicabilità di quello che è stato detto. Appunto alcune cose sono cose nuove che non mi sono mai state dette e insegnate, in altre invece ho trovato riscontro su cose che magari, cioè cose in cui a casa mi ero messa contro anche. Quindi sì, dà una bella svegliata in questo senso e si fa anche un mea colpa. Grazie a tutti.